L'ex sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dice di aver seminato la rinascita. I cittadini vedono soltanto seminate buche lungo le strade cittadine. Mandiamo a casa questa classe politica, mandiamo parimenti a casa il centrodestra, il Movimento 5 Stelle e altre pseudo realtà civiche che sono soltanto una cozzaglia di persone, persone di varia provenienza politica, un minestrone indigesto. Per questo mi candido sindaco di Taranto con il Movimento Taranto senza Ilva, né centrodestra, né centrosinistra né Movimento 5 Stelle. Taranto ai Tarantini, basta con i forestieri, basta con le nomine che provengono da Bari e occupano i posti di potere della nostra città. Taranto ai Tarantini, Taranto senza Ilva, Luigi Abbate, sindaco della nostra Taranto. Taranto ai Taranto